Divento perfetto se ti ho tra la gente, comunque con te, comunque vada con te Comunque vada con te, comunque vada con te Ed eccoci nuovamente in una nuova puntata, un carissimo e affettuoso saluto a tutti voi Riprendiamo, riprendiamo da questo tempo particolare di vacanza, di riposo, di festa, di movida e anche di preoccupazione Io ho notato che in quasi tutte le località sono aumentate le presenze, le visite, c'è movimento Però dovrebbe esserci anche più prudenza, più responsabilità Questo è un tempo storico, il tempo del coronavirus, Covid-19 Dove stanno aumentando i contagi Noi stiamo registrando con tutte le precauzioni Siamo a distanza, siamo in una stanza molto ampia Quindi siamo tutelati E il microfono anche viene sanificato Questo per dire che dobbiamo avere sempre la prudenza Quando si sta all'aria aperta, non si indossa la mascherina Ma quando ci si incontra o si entra in un locale Bisogna essere veramente prudenti Perché sì, l'estate è il momento in cui ci diamo tra virgolette la pazza gioia Però poi in autunno con tanti interrogativi Arriverà l'inverno Come affronteremo questa pandemia? Per noi stessi e soprattutto per gli altri Io vorrei condividere un argomento particolare Che mi è venuto in mente in questo tempo Vorrei parlare della fenomenologia del campanile Avete presente che cos'è un campanile? Quasi tutte le chiese hanno un campanile Oggi purtroppo nelle nuove chiese Non si costruiscono più i campanili Ci sono delle casse, dei microfoni che fanno eco Chiese che sono diverse rispetto a quelle del passato Ma penso che la maggior parte di noi siamo legati ad un modo tradizionale della chiesa Il campanile ha rappresentato sempre per la società civile, sociale e religiosa un punto di riferimento Pensiamo come sono composti, come sono strutturati i campanili Innanzitutto sono altissimi, dominano e sovrastano la città All'interno dei campanili c'è un ingresso, una scala attraverso il quale si può salire Per poi non soltanto per ammirare il panorama Ma anche perché poi ci sono le campane Alcune hanno una data antichissima, sono storiche Io mi ricordo anche a Morano A proposito a Morano Ci sono delle campane che sono tutelate Se non sbaglio dall'UNESCO Ci sono delle campane storiche Io penso anche a Roma Quando la domenica è mezzogiorno C'è uno scampanare che è meraviglioso È tutto un canto, è tutto un suono E il campanile ha una storia tutta sua, tutta particolare Noi quando passiamo davanti o ci raduniamo Perché il campanile crea socialità Non ci accorgiamo È vecchio, qualche cosa inizia a scricchiolare Ha tanti aspetti che sono importanti L'aspetto artistico, l'aspetto religioso L'aspetto civile L'aspetto civile non soltanto perché il campanile La chiesa, il centro della piazza Raduna, luogo di riferimento Ma una volta tutti sintonizzavano il proprio orologio All'orologio del campanile Preciso come un orologio svizzero C'erano anche i campanili dei comuni A livello civile Questo quando c'era quella posizione tra chiesa e stato E a livello religioso il campanile Almeno una volta aveva un significato Il suono delle campane Il significato ti ricorda la messa Il transito di un defunto L'angelus a mezzogiorno Oppure una occasione particolare Che può essere una festa Un evento importante Comunque il campanile Ha una sua importanza Una sua fenomenologia C'è un'espressione a livello religioso Se uno è cristiano del campanile Oppure è cristiano del Vangelo Chi sono i cristiani del campanile? Sono quelli che vivono all'ombra del campanile Nei paesi più grandi sono tanti i campanili A volte i campanili creano divisioni Campanile di qua Campanile di là Campanile dell'altra parte E questi sono definiti i cristiani del campanile Sono quelli che pensano Che il campanile abbia dei limiti Dei confini Ecco che il passaggio difficile È quello dal cristiano del campanile Al cristiano del Vangelo Il cristiano del campanile è il cristiano Che è legato Vede il campanile come una proprietà Come un possesso Vede il campanile come un qualche cosa Che è proprio Vede il campanile Come se fosse soltanto una struttura Attenzione Non fermiamoci a questo Perché si rimane soltanto cristiani del campanile Il campanile indica Una forma di controllo Poi del territorio I cristiani del campanile In Calabria Ma non solo in Calabria Ci sono tanti campanilismi Tu sei di qua Io sono di là Tu sei dell'altra parte E i campanilismi che cosa hanno provocato? Hanno provocato una frantumazione del tessuto sociale E anche religioso Io penso alla storia La storia è importante perché la storia insegna Le lotte Reggio Catanzaro Reggio Catanzaro e Cosenza I campanilismi Poi si sfrutta il campanile Non perché si è attaccati Si è affezionati alla fede Ma si strumentalizzano Contro qualcun altro Però attenzione Il campanile Io vorrei che noi lo osservassimo Innanzitutto bisogna avere uno sguardo Nel saper guardare le cose Perché noi siamo volutamente O in maniera involontaria Siamo distratti Passiamo Ci sediamo Stiamo accanto Ma non osserviamo Soltanto per quello che ci conviene Però guardiamo il campanile Il campanile è bello È bello Ripeto quello che ho detto all'inizio È imponente È svettante verso il cielo Domina tutto Sovrasta Io posso salire sul campanile Per ammirare il panorama E da un lato è utile il campanile Non soltanto per l'orologio Non soltanto perché mi ricorda alcuni eventi Ma perché attraverso il panorama mi fa vedere tutto Mi fa vedere tutto E così quasi mi insegna qualche cosa il campanile Che io non posso fermarmi ad una opinione Ma io devo sapere vedere tutto E sentinella anche il campanile Il campanile mi dà un senso di qualche cosa che veglia Che vigila Pensate anticamente Anticamente non c'erano i telefoni Non c'era internet E quando accadeva qualche cosa Attraverso il suono delle campane Richiamava la gente La guerra Un terremoto Un incendio Ha avuto una funzione importante il campanile Non soltanto veglia Vigila Sovrasta Ma il campanile a volte Noi possiamo anche non solo strumentalizzarlo Attenzione no Strumentalizzarlo Per i propri fini Per creare i cristiani del campanile Ma mi posso anche riconoscere nel campanile Quando io ho detto che il campanile È imponente È alto Svetta verso il cielo Mi dà un senso di superbia Di orgoglio E uno può avere una proiezione A volte possiamo sentirci come i campanili Noi guardiamo tutto Osserviamo tutto Noi dominiamo Noi sappiamo Sappiamo ogni cosa Noi ci sentiamo superiore Noi conosciamo tutte le prospettive Vedete che la fenomenologia del campanile Ha degli aspetti antropologici Antropologici che sono forvianti Devianti Ovviamente il campanile in se stesso Come struttura Come storia Come cultura Come aspetto religioso Questo non ce l'ha Perché il campanile È in nuoco Poverino Il campanile ha un suo Ha un suo senso Ripeto Il senso religioso Il senso sociale Che raduna Ha il senso sociale Che avverte Ha il senso anche dell'arte Di una società E anche il vanto Di una società Pensiamo Faccio l'esempio di Mormanno Il faro Che così Che domina Che domina E che ricorda Le vittime Della guerra Hanno un senso Però Non si può essere Uomini E donne O cristiani Del campanile Perché Il rischio Se uno si ferma a questo Il rischio è quello di Settorializzare Di dividere Di strumentalizzare Il rischio è quello di vedere Una struttura Un edificio Un qualche cosa In funzione Di quello Che mi serve Ma non solo Si ha una proiezione Questo È un qualche cosa Di psicologico No? Che scatta All'interno Della propria vita Sentirsi come un campanile Sentirsi come un campanile Io già l'esempio L'ho fatto Sono Al di sopra Degli altri Io vedo Io Possiedo Questa prospettiva Io posso Permettermi di salire Io posso Io posso Con una parola Che potrebbe essere Uno scampanare Influenzare Anche Gli altri C'è questa proiezione Particolare È una fenomenologia Del campanile Chissà se noi Quando siamo passati Qualche volta O stiamo all'ombra Del nostro campanile Ci abbiamo pensato E allora qui Sorge veramente Una domanda Molto interessante Importante Siamo Uomini O donne Cittadini O cristiani Del campanile Oppure Siamo Uomini E donne Del Vangelo Della società Della Della società civile Che cosa siamo Ogni Struttura All'interno Della nostra società Ha un significato Ha un significato Molto importante Non sono messi Così A caso Pensiamo Come sono Collocati Tanti paesini In In Calabria Paesini Anche dei piccoli Borghi Molto belli Faccio l'esempio Di Mormanno L'Aino C'è Morano E almeno Questo per quanto riguarda Ma anche Affacciando Affacciandoci Sulla Basilicata Ma ce ne stanno ancora Tanti altri Perché I nostri avi I nostri antenati Hanno deciso Hanno scelto Di vivere Distanti dal mare Perché Distanti dal mare In montagna Dove Non si vede Questa presenza E in passato Noi sappiamo Che c'erano Le invasioni Per vivere Protetti Rifugiati Ma non per vivere Isolati Ha un senso Ha un significato Ma anche Quando si costruisce Una città Quando si costruiscono Le vie Urbane E anche Quando si costruiscono Gli edifici Una volta Quando si costruiva Noi Possiamo vedere Nelle città Storiche Antiche Anche Ne borghi Sono tutte attaccate Attaccate L'una con l'altra Un segno Che una volta Non si prendevano Le distanze Si stava Si era vicini Anzi Le case Comunicavano Ci si affacciava Quasi quasi Si condivideva La stessa vita Di famiglie diverse C'è stato Un cambiamento Adesso Vediamo Che questo È un cambiamento Che invece Ha portato A distanziarci Ancora di più Oggi C'è stato Questo Un Fuggire Dal centro Della città Per andare Verso le campagne Ma oggi Ci si accorge Ad un ritorno Un ritorno Che È un ritorno Particolare Perché vivere Poi nei centri Nei centri storici Che a volte Sono abbandonati Non sono curati E porta A trascurarli Poi si costruiscono Si costruiscono B&B I luoghi Però sono sempre Dei luoghi Di particolare interesse Di rilevanza Rilevanza culturale Perché io ho voluto Fare questa mia Digressione Perché tutto Ha un senso Tutto ha un significato Se noi Ci fermiamo A riflettere Io ho voluto Fare l'esempio Del campanile Perché il campanile È il cuore Di un paese È il cuore Di una città Il campanile È importante Ha un significato Che è oltre Anche le parole Che io Ho detto Di sentinella Chissà se A noi Ci capita Desideriamo Qualche volta Scoprire E andare A fare qualche gradino Vogliamo Vedere la città Vogliamo osservare Ma non osservare Perché voglio Vedere Quello che succede Anche per Assistere All'evoluzione Ai cambiamenti E anche Al silenzio Ad ammirare Ad ammirare I luoghi Il campanile Ha un senso Sociale Molto importante Ci capita E questo Penso Lo dobbiamo Ammettere Che la piazza Spesso Coincide La piazza Civile Spesso coincide Con il duomo Con il duomo Dove c'è la chiesa E dove c'è sempre Il campanile È il luogo Che raduna È il luogo Dove si fa Comunione Dove si parla Si conversa Si chiacchiera Ci si incontra Una volta Era il luogo Degli affari Dell'incontro Tra la domanda E l'offerta Cioè il campanile Ha un senso Al di là Delle mura Al di là Dei mattoni Al di là Della sua struttura Imponente Che è stata Costruita È stato costruito Il campanile Secondo Una intelligenza Secondo Un significato Deve dare Un messaggio È Il luogo Più alto Della Della città Ovviamente Dipende come La città È posizionata Ci sono Sicuramente Altri luoghi Più alti Però di solito È la punta Più alta È la punta Più alta Perché il campanile Deve assumere Quella funzione Di veglia Ma solo Il campanile Di vegliare Di sentinella Di vigilare Di dominare Di aiutare Non è Tra virgolette Una forma Di panopticon C'è uno che Controlla tutto Oggi noi Quando andiamo In qualsiasi Negozio O in qualsiasi Città Anche nelle case Private Ci sono questi Panopticon No La videosorveglianza Tutto è controllato Tutto è registrato Non ha questa funzione Almeno Secondo L'intenzione Dei nostri padri No Ha una funzione Che è diversa Il campanile Ripeto No La funzione Sociale La funzione Civile La funzione Di veglia Di sentinella Di avvertimento La funzione Di anche Di ammirare La bellezza Di un paese Di guardare Il panorama Di assistere Di avere Ma queste cose Colpiscono Che è uno sguardo Acuto Profondo E riflessivo Non ha quella funzione Come io vi dicevo Di sentirsi Dei campanili Oppure Del dividere Cioè Ma quella funzione Di passare A vivere Almeno dal punto di vista Religioso Da cristiani Del campanile A cristiani Del vangelo Che cosa significa Cristiani del campanile O cristiani del vangelo Cristiani del campanile Significa questo No Che io Vedo la chiesa Come Un qualche cosa Che mi appartiene Che è un mio possesso Vedo la chiesa Come Non come Un luogo Di preghiera Ma vedo la chiesa Come Quasi quasi Come se fosse Una bandiera O come se io Dovessi fare Il tifo E creando Anche una divisione Nei luoghi Dove ci sono Più parrocchie E ci sono Più campanili C'è A volte C'è più una divisione religiosa Che una divisione sociale Sei della chiesa O del campanile Del nord Del sud Del centro O dell'est Passare Ai cristiani Del vangelo Che significa Questo Significa Avere un respiro Più ampio Di libertà Di accoglienza Di solidarietà Perché il cristiano Del campanile Potrebbe definirsi Un cristiano Anche superbo Sono Quasi quasi Io vi dicevo Identificandomi Con Con questo campanile Pensiamo Quando uno Simbolicamente In maniera Metaforica Lo scampanare Una parola Attenzione Alla parola Che noi diciamo E si diffonde Tutti Tutti Il resto E fa eco Questa Questa parola Perché Mi sento Quasi quasi Come se fossi Un campanile Ma il significato Del campanile Io Vi dicevo Ha una funzione Che ci invita A non Guardare Solo Alla terra Ma anche al cielo La punta più alta Perché i campanili Sono fatti Poi A forma Di punta Indicano Che c'è Una meta Verso Verso Il cielo Gesù Perché Poi È importante Ritornare Alla sua missione Al suo Peregrinare Sulle strade Polverose Della Palestina Anche ai suoi tempi C'erano I cosiddetti Religiosi Del campanile Quando c'era La differenza O L'astio O la divisione Tra Gli ebrei Del tempio Di Gerusalemme O i samaritani Del tempio Del monte Garizim Dov'è Il Vero Tempio O il vero Dio Dove bisogna Pregare E pensate Che tra Giudei E samaritani Non c'era Un buon rapporto Eppure Gesù È riuscito A dialogare Ed è bellissima Quella espressione Quando Gesù Incontra La donna Samaritana Gesù Sente Sete Però è una sete Ancora più profonda E poi si passa Dalla sete Di Gesù Alla sete Di questa donna Samaritana Che è la sete Di tutti i popoli E gli domanda Dove dobbiamo Pregare Dov'è Dio Dove possiamo Trovarlo Si prega Se io Se io Dentro il mio cuore Verso Dov'è Dio Conclusione Perché devo Campanile Sono un cittadino Che ha un respiro Più ampio Oppure sono un cittadino Legato soltanto Al mio luogo Sono un cristiano Sono aperto Agli altri Campanili Oppure sono un cittadino Esiste solo il mio Unico campanile E questo significa Se sono legato Solo al mio campanile Lo vedo come possesso Come proprietà Vuol dire che non sono Una persona libera Ancora devo Molto maturare Tenendo presente Su questo Io ci tengo a farla La precisazione Tutti siamo legati Ai luoghi Però i luoghi Non devono Diventare Una forma Che limita La nostra Libertà Ma io Guardando il campanile Sempre se lo guardo Se lo osservo Se lo ammiro Se rifletto Se mi lascio Raccontare la storia Del campanile Quello che ha visto Che ha vissuto Che rapporto Oppure ha un Rapporto di proiezione Quasi quasi Mi vedo Vedo me stesso Quasi quasi Come se io fossi Un campanile Superbo Orgoglioso Che devo Dominare Che devo controllare Tutto Dove Io Mi sento Un gradino Al di sopra Dell'altro E degli altri Ecco che c'è Una fenomenologia Del campanile Ovviamente Ovviamente Il campanile Con questo discorso Non c'entra niente No Perché il campanile Ha una sua funzione Sociale Civile Religiosa Artistica Culturale Però Noi umani Siamo Molto bravi A cambiare le cose A proiettare A trasformare Però siamo anche molto bravi Siamo intelligenti A fare dei passi indietro A riflettere E dare Il giusto La giusta Collocazione E la giusta Funzione E missione Che ha Qualsiasi Struttura E qualsiasi Edificio Presente Nella nostra Società Un grazie a tutti Ci rivediamo Alla prossima Puntata Spero Di avervi Trattenuto E di aver Soprattutto Suscitato Domande Interrogativi E anche Qualche Dubbio Divento Perfetto Se ti ho Tra la gente Comunque Con te Comunque Vada Con Te Comunque Vada Con Te Comunque Vada Con Te Comunque Vada Con Te Interrogativi